L'atmosfera è bellissima e ci hanno sostenuto sin dall'inizio. Cori, Casino, gente con le magliette azzurre, veramente una figata. La seconda partita che giochiamo è W3-0. Devo dire che a Busto ci porta bene, quindi la seconda partita che giochiamo sono molto contento per la prestazione nostra, per aver fatto divertire il pubblico. Penso che si siano anche divertiti a casa da guardarla dalla tv e quindi serata molto bella. Che te devo dire? Siamo andati molto bene, siamo andati dominando la partita, non perdendo mai quella sensazione di dover rincorrere o di dover sforzarci e di chiedere qualcosa oltre alle nostre possibilità come può essere in altre partite in cui va in difficoltà la cerchi di risolvere di rabbia Oggi siamo stati veramente molto concentrati molto concreti non siamo mai andati in un calo di concentrazione e vincere così con la Russia è il risultato di questi sforzi sia fisici che mentali. Beh, sinceramente non dico che mi aspettavo però ci speravo ecco Sì, assolutamente abbiamo avuto una prestazione dei singoli molto elevata qualitativamente ciò ci ha permesso di andare anche a braccio short in battuta di metterli sotto pressione in ricezione come ti avevo detto ieri ce la siamo giocata sulla palla alta loro che comunque anche noi siamo una squadra molto fisica ben correlata a muro difesa e quindi la chiave la chiave è stata lì io sono contento per la mia prestazione perché ho iniziato nell'europeo un po' così così prestazioni un po' opache diciamo così e quindi oggi oggi sono contento ma soprattutto sono contento perché l'abbiamo vinta di squadra l'abbiamo voluta l'abbiamo dimostrato in campo che volevamo questa vittoria grazie a tutti